Qui tra il 63 e il 67 sono arrivati artisti, poeti, musicisti, atleti. Questa è Matt Climons High School. Se volete essere qualcuno del basket a Oakland, qui dovete venire. Mosswood Playground. Da Philadelphia arrivano gli Warriors e con gli Warriors arriva Will Chamberlain. Questa è Berkley. Smith stravince. E negli anni successivi tutti i principali gruppi vorranno sentire il loro nome associato a Live at Film. Ma what happens if I pull dead? Qui è dove Janis Joplin soleva parcheggiare la sua vespa. Adesso è la disinibizione, la chiave d'ingresso. A tutto!